Musica 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 Sappiamo tutti che in questi giorni viviamo una situazione d'emergenza che è quella della gestione del coronavirus Diciamo che sì, la situazione è particolarmente allarmante ma i nostri equipaggi lavorano in grande tranquillità Abbiamo dei protocolli particolari da parte di Areu che sta gestendo l'intera situazione lombarda Dicevo tranquilli perché abbiamo disposizioni di protezione individuale particolarmente rafforzati Mi riferisco a punte, camici, occhialini ma soprattutto mascherine ad alta protezione guanti e se presenti calzari o bifurie con un caso sospetto arrivando in PS dove l'autista è completamente sigillato nel suo vano e non ha contatti con il paziente dove il paziente deambuli un soccorritore lo accompagna in PS si riprende il mezzo e si affronta la cosiddetta sanificazione In questi giorni sono diventate quasi introvabili e preziosissime le famose mascherine FFP2 che Areu ha ritenuto come un mezzo di protezione idoneo per tutti i soccorritori mi rivolgo a fornitori e a chiunque ne abbia in caso una discreta scorta contattateci, fatecelo sapere perché per noi sono estremamente importanti a chiunque ne abbia in caso una discreta scorta